Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Kaiju Universe Era da molto tempo che non portavo video di Kaiju Universe ma ho continuato quasi un po' a farmare E siamo a 58 milioni, cioè magari 58 milioni, 58 mila Tra poco arriveremo a 124 mila e potremo avere Godzilla 2021 Oggi farmeremo per arrivare a 60 mila E ci arriveremo con molte probabilità Volevo dirvi che scusate se carico dei video tipo come nei tre picchi Che ho caricato un video Che ho caricato il primo episodio Cioè il primo episodio come secondo episodio E scusatemi tanto Comunque volevo dirvi che sui te picchi Non trovo più modo da... perché sto sprecipitando Kaiju Universe è super laggato Perché stamattina si è tipo... si è... Si è... Lo sto ancora caricando Lo sto ancora caricando Non è ancora uscito Ehm... Questo tizio fa troppo rumore Scusate eh Se avete visto il video di circa stamattina Saprete che il mio computer Roblox è crashato Roblox è crashato Ehm... Io volevo dedicare Ehm... Un momento a voi fan Ehm... Magari non di professione Magari non di professione Ma proprio di lavoro fisso Ma magari uno o due video al giorno vanno bene E io volevo parlare un po' del mio canale Ehm... Perché io non ho ancora una data fissa di video al giorno Perché molti youtuber hanno una data fissa di video al giorno Tipo uno ne fa due video al giorno Un altro tre, quattro, cinque Dipende un po' dal tempo libero Che hai Ehm... Invece io Infatti scusatemi Perché qualche volta carico tantissimi video Qualche volta non ne carico niente Perché i miei giorni liberi variano Variano da giorno in giorno Magari un giorno non ho tempo Devo fare tantissime cose Invece il giorno dopo è in relax Oddio Questo tizio se mi vuole Mi stava minacciando E poi magari un altro giorno sono in relax Non so cosa fare Mi annoio a guardare la tv Con sempre le stesse cose Quindi faccio due, tre Uno, due, tre video E scusate Se... Cioè scusate di tutto Però non posso Fare... Cioè perché qualche volta Io non posso Devo uscire Devo fare delle cose Ed estate ovviamente Io vado in vacanza Vedete Comunque del crash Ho fatto molta fatica A riavviarle tutto E ci sono ancora un po' di problemi Tipo quel Mechagodzilla Che fermo lì da ore Quindi Stasera Mi metto lì Me lo aggiusto Ecco tipo Tipo magari domani No domani cosa devo fare Domani non so Se potrò portare Così tanti video Come oggi Perché oggi ne ho fatti Cinque mi sembra Quattro e cinque Il quarto e il quinto Sto facendo la nuova serie Di Minecraft Tsunami Molto fica Mi piace molto Come... Cioè come aspetti Perché a me Piace molto Queste... L'apocalittica Le cose apocalittiche Quindi ho chiesto A un amico Che lavora con me Cioè sta un po' Dietro le quinte Con me Con me Nel canale Facciamo un po' Di serie Insieme Perché lui non è tanto bravo Con i comandi Quindi io lo aiuto Con i comandi E facciamo un po' Di serie Insieme Non è anti Anzi In questi giorni Anti Potremmo fare un altro Video di Adopt Me Abbiamo solo L'ultima volta Che ci ho guardato In quel video Abbiamo solo due Mi piace Ma Era una cifra Troppo grossa All'epoca Avevamo solo tipo Otto Iscritti Quindi Più della metà Dovevano Mettere un mi piace Vi ho chiesto Una sono un po' Troppo grossa Quindi Vanno benissimo Due mi piace Anzi anche tanto Due mi piace Per me Anche tanto Ho dieci iscritti E Vanno benissimo Due mi piace Se for Ecco vedete Tipo ragazzi Ora Non mi stava caricando La 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 camminata Perché è tutto Glacciato Scusate Io ora Non ho il volume Ma se metto Tipo Mi sa Un ruggito Vedete Lì ci sarebbe Un Shinagawa Kan Ma Io non lo vedo Io vedo solo La vita C'è però E io lo sto picchiando In questo momento Vedete Non mi carica Le texture Non mi carica Quanto Mi da Comunque Siamo a 59.000 Tra poco Arriveremo a 60.000 Si sta caricando Vedete Oddio Bruttissimo Come titanusauro Quando L'avevamo Ok Non so che fine Abbiamo fatto Quando Quando avevamo preso Titanusauro Era Mezzo Mezzo Incorporeo Faceva delle cose Strane Titanusauro E' uno Di quei titani Buggati Non so perché Non risolvono Quel bug Che è metà E metà Ma vabbè Scusate Se vedete Tutti questi lag Anche a me Mi da fastidio Poi non sapete Quanto Comunque ragazzi Con creature Edizionaria Io Ora Magari non ora Però Oggi pomeriggio Un po' tardino Fare un video Oddio 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 Ok ragazzi Sono rientrata Ma è tutto Buggato Mi sa che è in corso Un crash Ci sono due freccette Guardate Due freccette Ragazzi Pronti a crash Pronti a crash Veramente Provo a risolvere Questa cosa Ciao Mi dispiace Ragazzi Ma Dobbiamo concludere Il video qua E' crashato Proprio Tutto il computer Tutto il computer Ragazzi Devo risolvere Questa cosa L'ho risolta Metà e metà Quindi Potrebbe andare bene Ma non posso Fare video Così Già la qualità Grafica E la visibilità Dei miei video Sono molto Molto Bassi E a me Mi rincresce Molto L'unica cosa Che possiamo fare Guardare il video Del Kaiju Universe trailer Non va neanche Non va neanche il video Benissimo Ok ragazzi Ciao ciao Oh Guardiamo il trailer Non è proprio così Semplice Però Che schifo di trailer Comunque ragazzi Ciao a tutti Grazie Grazie.